Ma non si può far proprio nulla, mio Dio. Monica, oh Monica, ho il cuore pieno di gratitudine. Ti ho ritrovata e basta, il resto non ha importanza. Guardami. Non ne ho il coraggio. Ma perché? Perché mi è perso di leggere nei tuoi occhi una calma assurda. Sì, calma, è vero. Quando mi sono svegliato ho provato un senso di pace incredibile. L'attento, la superiorità della difesa da voi progettata è evidente. La mobilità delle artiglierie, il facile spostamento delle riserve. Sono perfettamente d'accordo con voi. Devo aggiungere soltanto che bisogna accelerare al massimo i lavori. Avevo previsto tre mesi. Bisogna ridurre se possibile alla metà. Anche in questo sono d'accordo. Vi ringrazio.